Stava percorrendo la provinciale 22 a Tombolo verso Campo San Piero quando ha tamponato un tir che lo precedeva. L'impatto violento non ha lasciato scampo a Franco Dardanelli, 67enne, noto ristoratore di Villa del Conte. L'uomo titolare dell'osteria La Tavernetta ha perso la vita a martedì pomeriggio mentre era in sella alla sua moto. L'incidente è avvenuto all'incrocio della frazione di Onara in via Camatta. Secondo una prima di costruzione il tir che precedeva il motociclista all'improvviso ha svoltato e il ristoratore non è riuscito ad evitare l'impatto. Sul posto è intervenuta l'ambulanza e l'alli soccorso per il trasporto d'urgenza all'ospedale di Vicenza ma per Franco Dardanelli non c'è stato nulla da fare ed ha ispirato poche ore dopo l'incidente.